Ma in democrazia l'eletto rappresenta gli elettori. Questa volta però il nuovo capo dello Stato, chiunque sia, dovrà un po' smarcarsi dai suoi elettori perché viene espresso da un organo, intanto che a fine legislatura e quindi ha perso rappresentatività il Parlamento in sua comune, ha perso la sua rappresentatività e riflette un universo che non c'è più. V5 Stelle, stando ai sondaggi ma anche ai risultati dell'amministrativa, hanno dimezzato i consensi. C'è stato un po' un terremoto politico. Questo Parlamento è l'ultimo a mille membri, il prossimo ne avrà 600. E quindi questo è un po' fai votare una serie di rappresentatività. E' giusto che sia così, c'è un aforisma, tempus regi tactum, l'elezione è comunque valida. Ma la legittimazione del Presidente è un po' diminuita se l'organo che lo esprime è un po' a sua volta delegittimato. Quindi c'è un concorso di... questa delegittimazione riguarda il vecchio Parlamento, non il vecchio Presidente. Eh, sì, è chiaro. Ma, l'altra domanda che molti si fanno, un eventuale secondo mandato, mettiamola così di Mattarella, sarebbe un mandato pieno? Cioè non è scritto da nessuna parte di essere un mandato a tempo? Ah, assolutamente. Assolutamente. Anzi, mi sembra una sorta di insulto costituzionale immaginare di sforbiciare la durata delle cariche. I costituenti, tra l'altro, avevano ben chiaro questo orologio costituzionale che diversificava anche la durata di Camera e Senato. Sei anni il Senato, cinque la Camera, sette anni il Presidente della Repubblica e addirittura erano dodici anni per i giudici costituzionali, poi diventarono nove. E ha un senso tutto questo. Se io comincio a dire no, ti eleggo, fai un pezzetto di strada, poi te ne vai. È un po' un'offesa alla carica, non alla persona. Napolitano lo fece di dimettersi. Ma lo fece perché, in quel caso, io credo, vinse l'anagrafe personale su quella istituzionale. Era la vigila dei 90 anni e si dimise. Altra domanda che abbiamo fatto molto spesso, Professor Ananis, però che ci piace ripetere, ripeto proprio perché c'è il grande Rebus Draghi. Se fosse l'attuale Presidente del Consiglio, diciamo, a traslocare da Palazzo Chigi al Colle, si creerebbe un inedito però, perché mai un Presidente del Consiglio in carica è stato eletto Presidente della Repubblica. Ma che succede in quel caso? Sì, un ulteriore inedito costituzionale. Cosa succede? Succede intanto che tu non puoi recitare due parti in commedia, lo dice la Costituzione. Non puoi essere contemporaneamente Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica. Quindi devi dimettere da Presidente del Consiglio per poi diventare... Quando ci si dimette, quando un Presidente del Consiglio si dimette, il Presidente della Repubblica non rende subito efficaci quelle dimissioni, perché ha bisogno di trovare intanto il nuovo Presidente del Consiglio e quindi fa le consultazioni. Quando trova il nuovo, il nuovo giura e l'altro scade. Questa volta no, non potrebbe accadere questo. Non potrebbe accadere perché altrimenti lui rimanendo sospeso... Quindi devono essere subito accettate le dimissioni di Draghi. A quel punto chi presiede il Governo? Qui diciamo che c'è un vuoto normativo perché, almeno io non sono al corrente di alcuna disposizione di legge che preveda cosa succede in caso di morte, facendo tutti gli scongiuri del Presidente del Consiglio. L'unica disposizione è contenuta nell'articolo 8 della legge 400 del 1988, così abbiamo dato i numeri, insomma la quale prevede che in caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, il timone passa al Vice Presidente del Consiglio, se c'è, e qui non c'è in questa compaggia, o al Ministro più anziano per età, che sarebbe Renato Brunetta in questa compaggia. Un bel groviglio anche questo, poi vedremo, ovviamente come tutti sanno e sappiamo, poi si decide a volte proprio in zona Cesarini il nome del nuovo Capo dello Stato, quindi ci abbiamo ancora tempo.